Bella a tutti ragazzi sono Ale Davi e bentornati sul mio canale Oggi siamo qui col primo episodio della serie delle mob dei miei amici Che nome eh? Ho una fantasia porca troia Comunque, siamo qui con sto video perchè comunque volevo portarvi appunto dei video che non fossero sempre miei Più che altro non miei quanto... non di altri Ecco ora vi spiego un po' il ragionamento Non è che faccio canale community anche perchè Che cazzo è che mi manda i video? Alla fine ho diciamo 400 e tocchiamoci perchè magari non li raggiungerò mai e me ne mancano 10 Comunque ho sui 400 iscritti e per carità non mi aspettavo neanche di arrivarci a 400 iscritti Però ecco di sicuro non potrei fare la community Però tralasciamo queste cose Allora la mobile di AndroidX1613 che è appunto un membro del mio vecchio clan Gli RTD e qui vedete in sovraimpressione mentre parlo il nostro bellissimo background E era il mio vecchio clan in cui abbiamo iniziato a giocare quando avevamo tipo... Un attimo eh? 12 anni possibile, sì A Black Ops 1 quando era appena uscito Black Ops 1 quindi non tantissimo tempo fa Vi spiego un attimo come ho iniziato a giocare Allora siamo andati a casa di Ferrarista95 che è un altro membro ovviamente Lui aveva Modern Warfare 2 e io non avevo neanche la F3 quindi farvi capire un attimo come ero messo Lui aveva Modern Warfare 2 e abbiamo fatto una partita così in privata, cioè in locale Io lui e anche Anderiki giocavamo in 3 Ovviamente vabbè io non sapevo giocare Anderiki mi pare che lui avesse già Black Ops se non sbaglio E vabbè Ferrarista è anche abbastanza bravo perché comunque sia lui ci ha giocato E quindi niente, torniamo a casa e niente Per il compleanno volevo una bicicletta E non è una cazzata, vi sto raccontando anche se non vi interessa come saranno andati i fatti Volevo una bicicletta Niente, mi viene, voglio comprare una bicicletta Allora dico, va bene Prendetemi che lo fio di Black Ops E ora voi direte, ma non hai appena detto che non avevi la Play 3 Infatti alla cresima mi avevano appena regalato la Play 3 Comunque, e faccio, prendetemi Black Ops Va bene, prendo la Black Ops E non avevo internet, non ci avevo pensato Non avevo la connessione, intendo la Playstation Network E allora, cosa faccio? Dopo tipo 3-4 mesi Scopro che posso mettere il cavo Ethernet Metto il cavo Ethernet E spam Call of Duty Black Ops Ecco, da quel momento diciamo che sono stato abbastanza affezionato a Call of Duty All'inizio non riuscivo a giocare Facevo 3 uccisioni, 32 morti In deathmatch a squadra, il che è abbastanza preoccupante Però poi col tempo ci ho preso la mano E anche su Black Ops devastavo tantissimo Ora adesso non riesco quasi più a giocarci Però vi assicuro che ai tempi Anche se avevamo 13 anni ed eravamo dei bimbi minchia del cazzo Aspetta, aspetta, aspetta Non perché avevo 13 anni, ero un bimbo minchia Perché all'epoca ero un bimbo minchia Nel senso che scrivevo tutto Per quello Non solo per quello ma per tanti altri fattori che ora ho visto qua elencare Sono diventato abbastanza forte a Black Ops E poi è uscito MW3 Io felice come una pasqua Mi pare che si possa dire felice come una pasqua Vado a prenderlo subito Day 1, bam Anzi Day 1 in fronto se non sbaglio Da Games Bond Lo vado a prendere E cosa succede? Mi fa cagare Mi fa davvero schifo mi faceva Ma anche perché passare da MW3 a Black Ops 1 Era anche un salto abbastanza di qualità e di giocabilità Abbastanza grande Perché come tutti sapete Se avete giocato a Black Ops 1 e dopo a MW3 Vedete la differenza E quindi niente non riuscivo a giocare E tot, vale varie L'ho venduto Poi l'ho ricomprato E buona Questo è diventato il fenomeno che tutti voi conoscete Comunque non vi ho tanto raccontato degli altri In quanto vi ho raccontato io Come ero io All'epoca e come ho iniziato a giocare a Code Perché negli altri due episodi vi parlerò Di come erano gli altri Di come ci trovavamo insieme Di come ho iniziato a fare i video Tutte queste cose qua Siccome ho altri due episodi davanti Mi sembra giusto un attimo parlare del passato E passato tra virgolette Perché sono 3-4 anni E di come ho iniziato a giocare Tutto Di come ho iniziato a registrare E di come voi mi state ascoltando Niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se così lasciate un like Un commento In questa partita io sono morto a 20 E mi sono anche abbastanza incazzato Vedrete ora dallo score Che non dico cazzate Sono davvero morto a 20 E qua vedete che fenomeno Che ho il sesto prestigio Techland RDD Segnatevelo bene Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Un commento E condividete il video E ci si vede alla prossima Ah iscrivetevi Bella raga Fermi 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 Mi sono dimenticato di fare I complimenti a Crazy Ghost Per i suoi 1000 iscritti Grande bomberissimo Continua così Ok ragazzi Ora il video è davvero finito Andate in pace Grazie a tutti Grazie a tutti